Benvenuti a tutti, sono Armando Pisani, sono insegnante di matematica e fisica. Qui trovate la raccolta delle mie lezioni di matematica e fisica, appunto, tutti i video che troverete sono lezioni registrate in presenza, tranne qualche breve tutorial. E lo scopo di questa attività è, come si dice comunemente, matematica e fisica sono difficili, e io sono qui a dirvi che certo che sono difficili, come tutte le cose importanti lo sono. Ma non per questo non vale la pena di affrontarle, sono strumenti con cui farvi crescere. Lo scopo è proprio aiutarvi ad affrontare queste difficoltà, e ognuno poi ne verrà fuori a modo solo con i suoi strumenti. Questo aiuto che vi offro è proprio mirato a sostenervi in questo compito. Secondo me, se ci credete, se vi impegnate, ce la fate. Come diceva anche Virgilio nell'Eneide, diceva Ossi successus alit, possunt quia posse videntur. Cioè, il successo arriva a quest'oro che possono, perché sono convinti di potere, quindi se ci credi, ce la fai. Troverai davanti a un compito difficile, dirai, occhio, ce l'ho fatta, l'ho superato. E questo dovrebbe aiutarvi anche nella vita di tutti i giorni, quando sarete chiamati ad affrontare le vere sfide. Quando vi troverete davanti a scegliere tra ciò che è facile e ciò che è giusto. Lì sì, la cosa diventa difficile. Come diceva Albus Silente, anche Harry Potter, nella saga. E spero che le mie lezioni vi aiutino anche in questo, a affrontare i problemi che troverete nella vita di tutti i giorni, sapendo che, se ci credete, ce la fate. Quindi vi auguro buona visione, buono studio. E vi chiedo di iscrivervi al canale e di far conoscere a tutti la possibilità che avete di utilizzare questo strumento per aiutarvi nello studio. Grazie e buona visione. Grazie a tutti.